Mister Riccardo Boschetto, una partita veramente intensissima, espulsioni, gol al 94esimo. La prima cosa che mi viene da chiederti è se la te l'eri comunque immaginata così, con questi ritmi in calzano. Sì, ti devo dire che proprio la pensavo così. Evidentemente l'avversario era un avversario molto importante, è venuto molto carico. Ha fatto la sua partita ovviamente, quindi ci ha aspettato molto, ha provato a ripartire in velocità, con due attaccanti fortissimi, in particolare Piero Bon. Penso che sia un attaccante che in questa categoria continua, nonostante l'età, a fare una grandissima differenza. Pensavo di soffrire, pensavo di soffrire fino alla fine, gliel'ho detto ai ragazzi di rimanere lucidi, perché noi abbiamo nelle corde anche l'ultima giocata, se rimaniamo lucidi. Così è stata, perché devo dire che il gol nasce da una bellissima giocata e da un'ottima realizzazione di Dossena, quindi sostanzialmente anche se è colta all'ultimo minuto l'abbiamo cercata dall'inizio alla fine. Sì, nasce anche da uno scambio tra due giocatori che sono entrati in corso di partita, quindi insomma hai degli innesti effettivamente d'eccellenza anche loro. Sì, 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 ma questo capitava anche l'anno scorso, è una squadra che sa che se abbiamo le possibilità cambiamo, modifichiamo, cerchiamo di mettere in difficoltà l'avversario, di sfruttare tutte le nostre potenzialità e quindi sotto questo profilo sono preparati a fare questo. Poi a volte hai la fortuna che ti riesce, a volte no, quindi non è abilità, a volte è il colpo di fortuna che ti porta a vincere la partita con il cambio, a volte capita che non la vinci, però fondamentalmente avevi l'intenzione medesima. Quindi io.